Giovanna Bastone su Facebook 4 maggio 2022 In foto la giornalista russa Nadana Friedrichson che ieri sera, durante la trasmissione di Floris sulla 7, ha dovuto sopportare, con grande dignità, una totale mancanza di rispetto da parte dei colleghi giornalisti e della gran parte degli ospiti in studio. 5. La derisione, l'umiliazione inflittale ha stato un momento insopportabile e ha mostrato tutto il loro bassissimo livello, sia umano, sia professionale. Ha mostrato di quale atteggiamento misogeno, incompetente, strafottente, borioso presuntuoso e russofobo, a prescindere, siano dotati i giornalisti e i politici italiani. 6. Come donna e come italiana me ne vergogno 7. Come donna e come italiana porgo tutta la mia solidarietà alla giornalista russa Nadana Friedrichson Commento, Claudio Elazarlazzaro 7. Ha per mille stato il momento televisivo pia alla prima patetico e imbarazzante degli ultimi anni Alan Friedman e Tabacci ma anche gli altri sono da denuncia volgarita e sfotto da caserma un vero circo di c asterisco 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 e questo non ha simbolo di copyright giornalismo, la propaganda italiana atlantista pro Zelensky ha simbolo di copyright sempre pia alla prima nauseante. Grazie 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 Grazie